Buonasera, questa sera diamo inizio tra poco alla ventesima lettura del nostro ciclo di letture. Siamo quasi giunti alla fine, il ciclo di letture terminerà la prossima settimana con la professoressa Raggetti. Adesso vi parlerò anche di questo. Si tratta di un incontro del 19 di martedì 19, il cui titolo è Cacce al tesoro, talismani e alchimia con Ibn Khaldun. Martedì 19 maggio. Dunque, vi chiedo solo un attimo di pazienza perché disattivo degli audio che mi ritornano, essendo io stasera il regista e il relatore al tempo stesso. Grazie, un attimo solo. Bene, possiamo riprendere. Ditemi se mi sentite, se è tutto a posto, tutto in ordine. La lettura che vi farò stasera è una lettura tratta da uno dei più grandi filosofi del Novecento, e possiamo dire pure di uno dei più grandi filosofi dell'età contemporanea e forse uno dei più grandi filosofi in assoluto. Per tante ragioni. Perché Ludwig Wittgenstein, questa sera si tratta appunto di una lettura il cui titolo è Conferenza sull'etica, Ludwig Wittgenstein ha lasciato una traccia indelebile sulla filosofia contemporanea. Una traccia indelebile perché il suo modo di filosofare è totalmente inconsueto. Wittgenstein, teniamo presente, ha pubblicato pochissimo. L'unico vero volume, libro, che ha pubblicato nella sua vita è il suo primo libro, il Tractatus. Che in realtà è una raccolta di proposizioni, è vero, che hanno uno scarso carattere discorsivo e sono più assimilabili a una serie, è più assimilabile a una serie di aforismi. Tutte le altre pubblicazioni sono recensioni, saggi minori, in tutto se ne contano cinque, ma la vera pubblicazione appunto è il Tractatus Logico-Philosoficus 1918-1922. Ma di Wittgenstein si ricorda anche un'altra grande opera, che non è un'opera sua ma è una raccolta, poi pubblicata dagli allievi dopo la morte di Wittgenstein, Postuma, il cui titolo è Ricerche Filosofiche. Ebbene, solitamente si fa questa distinzione. La distinzione è che, mentre il Tractatus, diciamo così, rappresenta il primo Wittgenstein, il Wittgenstein che, come dice Francesco Barone, un grande studioso italiano, del neopositivismo e della filosofia, della scienza, della filosofia analitica. Un, appunto vi dicevo, Wittgenstein Tractatus ispiratore di quella che è la grande corrente che comincerà alla fine degli anni venti e che si chiama neopositivismo logico o neoempirismo. A Bologna avevamo un grande professore, un grande studioso del neoempirismo, un allievo diretto di Rudolf Carnap, è vero, e si chiamava Alberto Pasquinelli, che, appunto, aveva curato l'edizione della raccolta di saggi che si chiama Il neoempirismo, edita da Utet, in cui potete trovare tutte queste, i saggi dei più grandi rappresentanti del Schlich, Carnap e così via, del neopositivismo o neoempirismo. Il secondo Wittgenstein, invece, quello che comunemente, almeno quello che comunemente si intende, secondo Wittgenstein, è l'ispiratore, sarebbe, almeno, nella configurazione che ne dà Barone e che tradizionalmente se ne fornisce, sarebbe l'ispiratore di quella seconda grande ondata della ricerca filosofica, che si chiama, appunto, filosofia del linguaggio ordinario, oggi, più ampiamente nota come filosofia analitica. In realtà, queste distinzioni, per cui dal Tractatus viene fuori il neopositivismo e dalle ricerche filosofiche, invece, la filosofia del linguaggio ordinario e, in generale, la filosofia analitica, è una distinzione approssimativa, a mio avviso, perché non c'è, a mio avviso, ma ad avviso anche di alcuni grandi interpreti di Wittgenstein, non c'è una vera e propria cesura, discontinuità, tra il primo e il secondo Wittgenstein. Se noi leggiamo attentamente il Tractatus, troviamo tanti riferimenti, tanti modi di pensare, concetti, che si ritrovano anche nelle ricerche filosofiche. nelle ricerche filosofiche. Quindi bisogna stare attenti, diciamo così, a porre queste cesure, spesso poco significative. Bisogna leggere direttamente i testi e cercare nei testi le parole e i concetti che l'autore stesso ci esprime. Wittgenstein è stato un grande filosofo anche perché, a mio avviso, ha avuto forse un merito che nessuno di noi può prendersi o può, diciamo così, permettersi di esercitare. Cioè quello di fare pochissimi riferimenti alla filosofia precedente. Sono molto pochi i riferimenti che fa Wittgenstein nelle sue opere ai filosofi e alle tradizioni precedenti. Ne possiamo citare alcuni. Agostino, Schopenhauer, qualche fisico, Heinrich Hertz, ad esempio. Adesso vedremo anche perché. Comunque, qualche filosofo a lui contemporaneo. Lui aveva una grande amicizia con Frank Ramsey, che sembra essere stato uno degli studiosi, degli intellettuali, che poi lo hanno portato alla svolta, diciamo così, verso le ricerche filosofiche. E tra, diciamo, gli ispiratori c'è anche uno scienziato, un uomo di cultura, di scienza italiano, che si chiama Piero Sraffa, nella sua svolta verso le ricerche filosofiche. Ma i riferimenti comunque sono molto scarsi, molto pochi. Sembra che, quasi che come tutti i grandi filosofi, Wittgenstein voglia ricominciare la filosofia da capo. E ricominciare la filosofia da capo non significa per Wittgenstein tanto, come di solito si dice, si intende, riflettere sulla lingua, sul linguaggio, sulla grammatica. Certo, c'è anche questo aspetto. Ma la lingua, il linguaggio e la grammatica è solo un aspetto di una più ampia, diciamo così, sviluppo, di una più ampia analisi concettuale che Wittgenstein svolge in tutte le sue opere. Wittgenstein sembra quasi tornare, a mio avviso, in alcuni suoi passaggi, a una filosofia quasi arcaica. È vero? Quando l'ho letto parecchie volte nelle sue opere, mi sembrava di vedere addirittura dei passi dei presocratici, di Gorge. È vero? Qualche passo platonico. C'è questo desiderio di ricominciare da capo. E non a caso, non a caso dopo il Trattato, Wittgenstein in qualche modo dichiara di voler abbandonare la filosofia. È vero? Di non avere più, come dire, nulla da dire e nulla da sviluppare riguardo ai concetti che aveva espresso. Ma questo non si realizzerà. Wittgenstein, dopo il 1922, quando verrà pubblicata l'edizione inglese del Trattatus, vi ricordo che l'edizione di Wittgenstein è un filosofo di lingua tedesca, austriaco, di Vienna, e questa sarà, vedremo anche adesso leggendo la nostra lettura, la nostra conferenza sull'etica, sarà sempre un riferimento fondamentale, cioè la lingua madre. Non si può capire Wittgenstein senza leggerlo direttamente dalla sua lingua madre. Perché? Perché lui stesso ce lo suggerisce, come vedremo adesso, leggendo la conferenza sull'etica. E quindi molte volte, molte volte, nella lingua inglese, nelle traduzioni italiane, noi non riusciamo a capire bene quello che Wittgenstein ci vuole dire, o lo fraintendiamo. Proprio perché la prosa di Wittgenstein è una prova spesso asciutta, non si sviluppa in base a una retorica, non ha ridondanze, ritorna sui concetti, ma non è, diciamo così, stilisticamente ridondante. E questo ci spinge a cercare, appunto, di capire Wittgenstein, leggendo dove è possibile, dove c'è possibile, ovviamente, dall'originale, cioè dalla lingua tedesca. Non tutte le opere di Wittgenstein, gli scritti, più che le opere, è meglio più corretto dire, non tutti gli scritti o i documenti, che ci sono stati, gli appunti che ci sono stati lasciati da Wittgenstein, sono ovviamente in lingua tedesca. Questa conferenza, la conferenza sull'etica, è vero, che adesso vi leggerò, tra poco vi leggerò, è anzi scritta, diciamo, pronunciata direttamente in lingua inglese. È vero. Si tratta di un punto di passaggio. Sono anni decisivi, siamo alla fine degli anni venti. tra il settembre del 1929 e il dicembre del 1930. Wittgenstein sta tornando alla filosofia. Era già ritornato, in buona parte, con le osservazioni filosofiche, ma sembra che, sembra, qui ci sono delle notizie un po' contornate da un'aura quasi mitica, no? Sembra che il punto di svolta sia stato fornito a Wittgenstein da una conferenza di un grande matematico, anche lui un personaggio piuttosto eccentrico, che si chiamava Jan Brower, il fondatore dell'intuizionismo in matematica. Nel 1928 Wittgenstein assiste a una conferenza di Brower sollecitato da Ramsey, sollecitato Ramsey no, perché muore prima, ma dai suoi amici, dai suoi compagni, da Moritz e Schlick, Schlick, che era un neopositivista, aveva una grande stima di Wittgenstein, ma Wittgenstein non voleva essere identificato col positivismo o col neopositivismo. Questa conferenza, però, a cui lui assiste nel 1928 è decisiva. Perché è decisiva? Adesso qui non c'è tempo per fare tutte queste indagini, ovvio, per esplicitare questo, ma perché nell'intuizionismo si tratta di ripensare gli oggetti, la realtà e anche gli stessi oggetti matematici a partire non dalla loro forma, ma dalla loro costituzione, dalla loro genesi. Questo è molto importante per Wittgenstein. Wittgenstein, come dire, rifugge il formalismo, critica, anche se nel tractatus sembra riprodurlo, critica il logicismo di Russell, lo farà sempre, è vero? E anche riguardo a quelli che sono gli enti matematici, gli oggetti matematici, è vero? Si tratta di percorrere il cammino della loro costituzione. Vedete che in questo aspetto secondo me Wittgenstein si avvicina anche, se vogliamo, a caratteri di quella che si stava ultimando in quegli anni, cioè il percorso fenomenologico di Edmund Husserl. Detto questo, la conferenza sull'etica pubblicata però solo nel 1965, The Philosophical Review, è vero? Fu pronunciata probabilmente, dice il curatore, fra il settembre del 1929 e il dicembre del 1930. Adesso vi faccio vedere un'immagine, soprattutto per quelli che sono su YouTube, non per voi che siete su Teams, un'immagine di questo, del testo che è Lezioni e conversazioni edito da Adelphi, io leggo dall'edizione del 1985, la quinta edizione, è vero? Lezioni e conversazioni sull'etica, l'estetica, la psicologia, la credenza religiosa e la primissima parte contiene proprio la conferenza sull'etica. Conferenza sull'etica. Perché Wittgenstein, perché ho scelto questa lettura? Avrei potuto scegliere altre, ci sono dei bellissimi passi tratti da The Blue e The Brown Books, dal libro Bue e Libro Marrone, che non sono semplici aforismi, sono passi discorsivi, in prosa, per così dire, e che sarebbero stati leggibili. Ma questa è una conferenza. Una conferenza vuol dire che è rivolta a un pubblico, diretta, e quindi c'è anche un desiderio di Wittgenstein di comunicare, un desiderio di, in qualche modo, di facilitare il contatto con l'ascoltatore, con il lettore. e è utile leggerla, secondo me, prima di tutto per questa ragione. E poi è utile anche leggerla per il contenuto stesso, importantissimo negli incontri delle letture filosofiche che abbiamo fatto precedentemente, assieme ai miei colleghi, ci sono state bellissime letture, no? del professor Volpe, della professoressa Lalatte, sui temi che riguardavano l'etica. È vero? Beh, Wittgenstein non tratta tanto di questi argomenti. Per lui non vuole entrare tanto nei contenuti particolari dei valori, delle scelte particolari che riguardano l'etica, ma vuole cercare di capire che significato ha, che senso ha un discorso etico, che senso può, diciamo, ritagliarsi un discorso etico nell'ambito del pensiero filosofico. Quindi, diciamo, il suo intento è quello di risalire a monte della, come dire, dell'indagine specifica, contenutistica che riguarda l'etica e di capire come l'etica si inscrive rispetto al discorso, all'indagine filosofica, filosofico-linguistica certamente, concettuale, più generale. Etica che sembra, è vero, essere il contenuto dell'ultima proposizione del Tractatus, ciò di cui non si può parlare, si deve tacere. E da lì avrebbe potuto cominciare un altro libro, un altro testo, che Wittgenstein non ha mai scritto in questo senso. E quindi vi leggerò adesso che cosa pensa Wittgenstein del discorso etico in relazione al tema della descrizione della realtà, delle cose, dei fatti che ci stanno intorno. vado direttamente con la lettura di Wittgenstein conferenza sull'etica. Prima di entrare in argomento, questo è Wittgenstein che parla, farò qualche osservazione preliminare. Sento che mi sarà molto difficile comunicarvi i miei pensieri e penso che alcune delle difficoltà potrebbero ridursi se ve le esporrò subito. La prima che potrei quasi fare a meno di menzionare è che l'inglese non è la mia lingua e quindi il mio modo di esprimermi manca spesso di quella precisione e sottigliezza che sarebbero desiderabili quando si parla di un argomento difficile. Posso solo chiedervi di facilitare il mio compito cercando di capire il mio pensiero a dispetto degli errori che verrò continuamente commettendo nei confronti della grammatica inglese. La seconda difficoltà è che probabilmente molti di voi sono venuti a questa mia conferenza con un'aspettativa leggermente sbagliata. E per chiarirvi le cose su questo punto voglio dirvi qualche parola sulle ragioni della mia scelta dell'argomento. Quando l'allora segretario della vostra associazione mi fece l'onore di chiedermi di tenere una conferenza il mio primo pensiero è stato di accettare senz'altro. Poi ho pensato che se avessi avuto l'occasione di parlare a voi avrei dovuto parlare di qualcosa che voglio davvero comunicarvi e non sprecarla facendo una conferenza ad esempio di logica. Ho detto sprecarla perché per trattare con voi un argomento scientifico sarebbe necessario disporre di un intero corso di conferenze e non di un'ora sola. Un'altra alternativa avrebbe potuto essere quella di una conferenza cosiddetta scientifico popolare. Piccola parentesi piccolo commento che faccio le conferenze scientifico popolari tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento erano molto di moda tra gli intellettuali tra i grandi intellettuali diciamo così europei soprattutto dell'area della Mitteleuropa penso ad esempio a un grande scienziato e filosofo come Mac che aveva scritto che aveva pubblicato delle lezioni appunto delle letture scientifico popolari e che avevano un grande successo avevano un grande successo vado avanti a riprendere la lettura una cosiddetta riprendo da qui una cosiddetta conferenza scientifico popolare intesa cioè a farvi credere di capire una cosa che di fatto non capite e di soddisfare quel che secondo me è uno dei più bassi desideri dell'uomo moderno ossia la curiosità superficiale per le ultime scoperte della scienza ho rispinto queste alternative e ho deciso di parlarvi di un argomento che a me sembra di importanza generale nella speranza che possa contribuire a chiarire le vostre idee a riguardo anche se doveste totalmente dissentire con quanto verrò dicendo la mia terza e ultima difficoltà è di quelle proprie in realtà ad ogni discorso filosofico di una certa ampiezza chi ascolta è incapace di vedere la via per cui è condotto e la meta a cui conduce dice Wittgenstein ossia pensa capisco tutto ciò che dice ma dove vuole arrivare oppure vedo dove vuole arrivare ma come farà a pervenirvi posso solo di nuovo chiedervi di essere pazienti sperando che alla fine possiate vedere tanto la strada quanto dove essa conduce e ora comincio il mio argomento come sapete è l'etica e io adotterò la spiegazione del termine data dal professor Moore nel suo libro Principia Etica e gli dice l'etica è la ricerca generale su ciò che è bene ora io userò il termine etica in un senso un poco più lato in un senso di fatto che include la parte secondo me più essenziale di ciò che di solito viene chiamato estetica qui ricorda Platone secondo me e per farvi vedere più chiaramente possibile che cosa assumo come oggetto proprio dell'etica vi presenterò alcune espressioni più o meno sinonime ciascuna delle quali può essere sostituita alla definizione precedente enumerandole voglio produrre lo stesso tipo di effetto prodotto da Galton quando disponeva sulla stessa lastra fotografica un certo numero di fotografie di facce diverse per avere il quadro delle caratteristiche tipiche comuni a tutte vedete questo è il metodo tipologico Weber aveva detto Max Weber il tipo la ricerca del tipo ideale ideal tipus e come mostrandovi una tale fotografia collettiva potrei farvi vedere quale sia ad esempio la tipica faccia cinese così passando lo sguardo sulla serie di sinonimi che vi porrò di fronte sarete in grado spero di vedere le caratteristiche tipiche comuni a tutti e che sono le caratteristiche tipiche dell'etica guardate che qui abbiamo un aspetto molto importante sottolineato da Wittgenstein l'etica non si può studiare mediante un metodo classificatorio ipotetico deduttivo eccetera l'etica va affrontata attraverso una strategia di carattere tipologico ora invece di dire che l'etica è la ricerca su ciò che è bene dice Wittgenstein avrei potuto dire che l'etica è la ricerca su ciò che ha valore tedesco wert o su ciò che è realmente importante o sul significato della vita o su ciò che fa la vita meritevole di essere vissuta o sul modo giusto di vivere io credo che se voi guardate a tutte queste frasi avrete un'idea approssimativa di ciò di cui l'etica si occupa ora quel che subito colpisce in tutte queste espressioni è che ciascuna di esse è in realtà usata in due sensi molto diversi li chiamerò senso corrente o relativo da una parte e senso etico o assoluto dall'altra se per esempio dico che questa è una buona sedia ciò significa che la sedia serve a un certo scopo ben determinato e la parola buono qui ha significato solo se questo scopo è stato fissato in precedenza infatti la parola buono nel senso relativo significa semplicemente raggiungere un certo predeterminato livello così quando diciamo che questo uomo è un buon pianista vogliamo intendere che può suonare suonare pezzi di un certo grado di difficoltà con un certo grado di destrezza e similmente se dico che per me è importante non prendere freddo voglio significare con questo che prendere un raffreddore produce certi disturbi descrivibili nella mia vita se dico che questa è la via giusta voglio dire che è giusta relativamente a una certa meta usate in questo modo queste espressioni non presentano problemi gravi e di difficile soluzione ma questo non è il modo in cui l'etica le usa supponiamo che io giochi a tennis e che uno di voi mi veda giocare e dica in realtà lei gioca abbastanza male supponiamo che io replichi lo so gioco male ma non voglio giocare meglio quell'uno di voi potrebbe allora solo dire ah se è così va tutto bene ma supponiamo invece che io abbia detto a uno di voi una bugia assurda e che costui venga da me e mi dica lei si comporta come un disgraziato e io gli rispondo lo so di comportarmi male ma non voglio comportarmi meglio costui potrebbe forse dire potrebbe ripetere no ah se è così va tutto bene potrebbe dire questo dice Wittgenstein eh di fronte a me che dico lo so di comportarmi male ma non voglio comportarmi meglio posso dire come nel caso precedente quando gioca tennis così va tutto bene se è così va tutto bene certamente no saremmo piuttosto propensi a dire ma lei dovrebbe desiderare di comportarsi meglio qui abbiamo allora un giudizio assoluto di valore mentre il primo era un caso di giudizio relativo l'essenza di questa differenza sembra ovviamente essere questa ogni giudizio di valore relativo è una pura asserzione di fatti e può quindi essere espresso in una forma tale da perdere del tutto l'aspetto di un giudizio di valore invece di dire questa è la via giusta per granchester avrei potuto dire altrettanto bene questa è la via giusta che dovete percorrere se volete raggiungere granchester nel più breve tempo possibile quest'uomo è un buon corridore significa solo che percorre un certo numero di chilometri in un certo numero di minuti e così via ora io voglio affermare che mentre si può mostrare come tutti i giudizi di valore relativo siano pure asserzioni di fatti nessuna asserzione di fatti può mai essere o implicare un giudizio di valore assoluto permettetemi di spiegare questo supponiamo che uno di voi fosse onnisciente onnisciente e conoscesse quindi tutti i movimenti di tutti i corpi del mondo vivi o morti e che conoscesse anche tutti gli stati mentali di tutti gli esseri umani che siano mai vissuti e supponiamo che quest'uomo abbia scritto tutto ciò che sa in un grosso libro che conterrebbe quindi l'intera descrizione del mondo quel che voglio dire è che questo libro non conterrebbe nulla che noi potremmo chiamare un giudizio etico o qualcosa che logicamente implichi un tale giudizio conterrebbe certo tutti i relativi giudizi di valore tutte le vere proposizioni scientifiche e in realtà tutte le vere proposizioni possibili ma tutti i fatti descritti sarebbero per così dire allo stesso livello e allo stesso modo tutte le proposizioni non vi sono proposizioni che in un qualsiasi senso assoluto siano sublimi importanti o correnti ora forse alcuni di voi saranno d'accordo su questo e si ricorderanno delle parole di Amleto Nulla è buono o cattivo ma il pensiero lo fa tale ma anche questo potrebbe portare un malinteso ciò che dice Amleto sembra implicare che bene o male benché non siano qualità del mondo esterno del mondo a noi esterno siano attributi del nostro stato mentale vedete la contrapposizione le cose gli stati mentali in questa dicotomia dice Wittgenstein si è sempre sviluppato sviluppata la metafisica tradizionale stati mentali mente e realtà Wittgenstein vuole superare questa dicotomia è vero non perché voglia riconciliare la mente con la realtà ma perché vuole come dire mettere a fuoco tematizzare il problema del significato di quello che diciamo e che facciamo e che questo significato non può essere ricavato da un'analisi delle cose o da un'analisi degli stati mentali il cosiddetto mentalismo secondo me invece dice Wittgenstein continua a leggere uno stato mentale intendo per esso un fatto passibile di descrizione in un senso etico non è né buono né cattivo se per esempio nel vostro libro universale leggiamo la descrizione di un delitto compresi i particolari fisici e psicologici la pura descrizione di questi fatti non conterrà nulla che potremmo chiamare una proposizione etica il delitto sarà esattamente sullo stesso livello di un qualsiasi altro evento per esempio la caduta di una pietra certo la lettura di questa descrizione può causarci dolore o rabbia o ogni altra emozione oppure possiamo leggere del dolore e della rabbia causati da questo assassinio in altri quando ne ebbero notizia ma saranno sempre fatti semplicemente fatti e fatti e non etica e non etica e ora debbo dire che se osservo ciò che l'etica veramente dovrebbe essere se ci fosse una scienza del genere il risultato mi sembra del tutto ovvio mi sembra evidente che nulla di ciò che noi potremmo pensare o dire sarebbe la cosa che noi non possiamo scrivere un libro scientifico il cui tema possa essere intrinsecamente sublime e superiore a qualsiasi altro tema posso solo descrivere i miei sentimenti con la metafora che se un uomo potesse scrivere un libro di etica che fosse veramente un libro di etica ebbene questo libro distruggerebbe con un'esplosione tutti gli altri libri del mondo le nostre parole usate come noi le usiamo nella scienza sono strumenti capaci solo di contenere e di trasmettere significato e senso senso e significato naturali eh? avete capito cosa dice Vittes tutte queste parole ci trasmettono solo natura e poi natura ora l'etica dice Vittes riprendo a leggere se è qualcosa è soprannaturale mentre le nostre parole potranno esprimere solamente dei fatti così come una tazza contiene solo la quantità d'acqua che la riempie fino all'orlo e io ne facessi versare un ettolitro ho detto che per quanto riguarda fatti e proposizioni c'è solo valore relativo bene relativo eccetera permettetemi prima di andare avanti di darne un esempio abbastanza ovvio la via giusta è quella che conduce a una meta arbitrariamente predeterminata ed è abbastanza chiaro a tutti noi che non ha senso parlare di una via giusta indipendentemente da una tale meta predeterminata vediamo ora cosa potremmo eventualmente voler dire con l'espressione la via assolutamente giusta penso che sarebbe dice Wittgenstein la via che ciascuno vedendola dovrebbe per necessità logica percorrere o vergognarsi di non farlo e similmente il bene assoluto se c'è uno stato di cose descrivibile se è scusate se è uno stato di cose descrivibile sarebbe quello che chiunque indipendentemente dai propri gusti e dalle proprie inclinazioni dovrebbe necessariamente conseguire o sentirsi colpevole per non conseguirlo voglio dire inoltre che un simile stato di cose è una chimera nessuna situazione possiede in quanto tale quello che vorrei chiamare il potere coercitivo di un giudice assoluto ma allora tutti noi che e io tra questi siamo tuttavia tentati di usare espressioni come bene assoluto valore assoluto e così via che cosa abbiamo in mente e che cosa cerchiamo di esprimere ora ogni volta che io cerco di chiarirlo a me stesso è naturale che io ricordi dei casi in cui farei certamente uso di queste espressioni trovandomi allora nella situazione in cui sareste voi se per esempio io stessi tenendovi una conferenza sulla psicologia del piacere cerchereste allora di ricordarvi qualche situazione tipica in cui sempre avete provato piacere perché avendo richiamato alla mente una simile situazione diverrebbe per voi un concreto e in certo modo controllabile tutto quello che io potrei dirvi in un caso del genere uno potrebbe scegliere come esempio tipico la sensazione provata durante una passeggiata in un bel giorno d'estate ora appunto io mi trovo in un caso analogo volendo fissare la mia mente su ciò che intendo per valore assoluto o etico e sempre mi capita che mi si presenti l'idea di un'esperienza particolare che quindi è in un certo senso la mia esperienza per eccellenza ed è per questa ragione che ora parlando a voi userò questa esperienza come il mio primo e principale esempio come ho detto prima si tratta di una questione del tutto personale e altri quindi potrebbero trovare esempi diversi più persuasivi descriverò questa esperienza in modo che voi possiate richiamare alla mente alla vostra mente la stessa esperienza o esperienze simili così da avere una base comune per la nostra ricerca credo che il modo migliore di descriverla sia dire che quando io ho questa esperienza mi meraviglio per l'esistenza del mondo e sono allora indotto a usare frasi come quanto è straordinario che ogni cosa esista oppure quanto è straordinario che il mondo esista la meraviglia del mondo farò menzione di un'altra esperienza subito che mi è pure nota e che può essere nota anche ad alcuni di voi l'esperienza si potrebbe dire di sentirsi assolutamente al sicuro intendo lo stato d'animo in cui si è portati a dire sono al sicuro nulla può recarmi danno qualsiasi cosa accada ora prenderò in considerazione queste esperienze dal momento che secondo me presentano proprio quelle caratteristiche che cerchiamo che cercherò di chiarire e prima di tutto voglio dire che l'espressione verbale che diamo a queste esperienze non ha senso se dico mi meraviglio per l'esistenza del mondo faccio un cattivo uso della lingua lasciatemi spiegare ciò che voglio dire ha un significato chiaro e preciso il dire che mi meraviglio di qualcosa perché è come è tutti capiamo cosa voglia dire meravigliarsi per le dimensioni di un cane più grosso di qualsiasi cane mai visto o per qualcosa di straordinario nell'acciozione comune del termine in tutti questi casi io mi meraviglio di qualcosa perché è come è e che potrei concepire diversamente mi meraviglio per le dimensioni di questo cane perché potrei immaginare un cane di dimensioni normali per esempio di cui non mi meraviglierei dire mi meraviglio di questo e di quest'altro ha senso solo se posso immaginarmi che le cose non stiano così eh l'affermazione e la negazione sono sullo stesso piano logico quando parliamo di fatti dice Wittgenstein no? se ha senso l'affermazione ha senso la negazione riprendo Wittgenstein la lettura in questo senso ci si può meravigliare diciamo per l'esistenza di una casa vedendola non avendola visitata da molto tempo e avendo immaginato che l'avessero demolita nel frattempo ma non ha senso dire che mi meraviglio per l'esistenza del mondo poiché non posso immaginarlo come non esistente posso certo meravigliarmi meravigliarmi che il mondo attorno a me sia così se per esempio avessi una tale esperienza mentre guardo il cielo azzurro potrei meravigliarmi del suo essere azzurro invece che coperto di nubi invece che grigio ma non è questo quello che voglio dire mi sto meravigliando del cielo comunque esso sia si potrebbe essere tentati di dire che mi sto meravigliando di una tautologia e cioè del cielo azzurro o non azzurro che sia ma allora non ha senso dire di meravigliarsi di una tautologia ora capita lo stesso per l'altra esperienza da me menzionata l'esperienza cioè di sentirsi assolutamente al sicuro sappiamo sappiamo tutti cosa voglia dire nella vita normale essere al sicuro sono al sicuro nella mia stanza dove non posso essere travolto da un autobus sono al sicuro se ho avuto già la pertosse e quindi non posso averla una seconda volta essere al sicuro significa essenzialmente l'impossibilità fisica che mi possano capitare certe cose e quindi non ha senso dire che io sono al sicuro qualsiasi cosa capiti di nuovo è un uso errato della parola sicuro come nell'altro esempio per le parole esistenza e meravigliarsi vorrei ora imprimere nella vostra mente che un certo caratteristico uso errato della nostra lingua percorre tutte le espressioni etiche e religiose le quali prima face sembrano solo similitudini e sembra quindi che quando usiamo la parola giusto in senso etico benché non intendiamo giusto nel suo senso corrente si tratti di qualcosa di simile e così pure l'espressione è un bravo uomo benché la parola bravo non abbia lo stesso significato che nella frase è un bravo giocatore di calcio e quando diciamo la vita di quell'uomo aveva un valore non lo intendiamo nello stesso senso in cui parliamo del valore di un gioiello ma sembra che si dia una qualche analogia orbene sembra che tutti i termini religiosi in questo senso siano usati come siano usati come similitudini o in modo allegorico perché quando parliamo di Dio che vede tutto e quando ci inginocchiamo e lo preghiamo tutte le nostre parole le nostre azioni sembrano parti di una grande elaborata allegoria che rappresenta Dio come un essere umano che ha un grande potere la cui grazia cerchiamo di cattivarci e così via ma questa allegoria descrive anche le esperienze già riferite perché la prima è secondo me l'esperienza in cui si fa riferimento a cui si fa riferimento quando si dice che Dio ha creato il mondo mentre l'esperienza di sicurezza assoluta è stata descritta dicendo di sentirci sicuri nelle mani di Dio una terza esperienza del genere è il sentirsi colpevoli e di nuovo la si è espressa dicendo che Dio disapprova la nostra condotta così sembra che nel linguaggio etico e religioso noi usiamo sempre similitudini ma dice Wittgenstein una similitudine deve essere una similitudine per qualcosa e se posso descrivere un fatto usando una similitudine devo anche essere in grado di togliere via questa e di descriverlo senza di essa ora nel nostro caso se cerchiamo di eliminare la similitudine e di asserire semplicemente i fatti che stanno dietro troviamo che questi fatti non ci sono così quando sembrava dapprima una similitudine quanto sembrava dapprima una similitudine appare come un puro non senso ora tra le esperienze che vi ho menzionato e avrei potuto aggiungerne altre a coloro che ve le hanno provate e per esempio a me sembrano possedere in un certo senso un valore intrinseco assoluto ma se dico che sono esperienze vuol dire certamente che sono dei fatti accaduti in un certo posto in un certo tempo che hanno avuto una certa durata e di conseguenza sono descrivibili e allora per quanto ho detto pochi minuti or sono devo riconoscere che non ha senso dire che hanno un valore assoluto sarò ancora più persuasivo dicendo è un paradosso che un'esperienza un fatto sembri avere un valore sovrannaturale c'è però un modo in cui sarei tentato di affrontare questo paradosso permettetemi di considerare ancora una volta la nostra prima esperienza del meravigliarsi per l'esistenza del mondo e di descriverla in un modo un po' diverso sappiamo tutti cosa si direbbe un miracolo nella vita normale è ovviamente solo un evento di cui non abbiamo mai visto l'uguale supponiamo ora che un evento simile un miracolo si verifichi supponiamo che a uno di voi cresca improvvisamente una testa di leone e cominci a ruggire sarebbe certamente davvero una cosa straordinaria ora una volta rimessici dalla sorpresa la prima cosa che suggerirei sarebbe di chiamare un dottore e di fargli esaminare il caso in modo scientifico e se non fosse per non fargli male vorrei che fosse vivisezionato ma dove se ne sarebbe andato il miracolo è chiaro infatti che se osserviamo le cose in questo modo tutto quel che c'è di miracoloso sparisce a meno che non intendiamo per miracoloso solo ciò che la scienza non ha ancora spiegato il che vuol dire di nuovo che non siamo finora riusciti a raggruppare questo fatto insieme con altri in un sistema scientifico questo mostra come sia assurdo dire che la scienza ha provato che non ci sono miracoli la verità è che il modo scientifico di guardare un fatto non è il modo di guardarlo come un miracolo perché qualsiasi fatto voi possiate immaginare e non è miracoloso in se stesso nel senso assoluto del termine vediamo ora quindi di aver usato la parola miracolo in senso relativo e in senso assoluto e ora descriverò l'esperienza di meravigliarsi per l'esistenza del mondo dicendo è l'esperienza di vedere il mondo come un miracolo sono ora tentato di dire che l'espressione giusta nella lingua per il miracolo dell'esistenza del mondo benché non sia alcuna proposizione nella lingua è l'esistenza del linguaggio stesso ma allora cosa significa essere consapevoli di questo miracolo in certe occasioni e non in altre infatti trasferendo l'espressione del miracoloso da un'espressione per mezzo del linguaggio alla espressione per l'esistenza del linguaggio ho detto solo di nuovo che non possiamo esprimere ciò che vogliamo esprimere e che tutto ciò che diciamo sul miracoloso assoluto rimane privo di senso ora la risposta a tutto questo sembrerà perfettamente chiara a molti di voi direte allora se certe esperienze ci inducono sempre nella tentazione di attribuire ad esse una qualità che chiamiamo valore e importanza assoluti o etici questo mostra semplicemente come con queste parole noi non intendiamo un non senso e che quindi dopo tutto dicendo che un'esperienza ha un valore assoluto intendiamo solo un fatto come un altro e che tutto equivale a dire di non essere ancora riusciti a trovare la corretta analisi logica di ciò che intendiamo con le nostre espressioni etiche e religiose ora di fronte a una tale asserzione io vedo subito chiaro come in un lampo di luce non solo che nessuna descrizione pensabile per me sarebbe adatta a descrivere ciò che io intendo per valore assoluto ma anche che respingerei ogni descrizione significante che chiunque potesse eventualmente suggerire ab inizio sulla base del suo significato cioè voglio dire questo vedo ora come queste espressioni prive di senso erano tali non perché non avessi ancora trovato l'espressione corretta ma perché la loro mancanza di senso era la loro essenza peculiare perché infatti con esse io mi proponevo proprio di andare al di là del motto di andare al di là del linguaggio significante la mia tendenza e io ritengo la tendenza di tutti coloro che hanno mai cercato di scrivere o di parlare di etica o di religione è stata di avventarsi contro i limiti del linguaggio questo avventarsi contro le pareti della nostra gabbia questa è una metafora cara Wittgenstein è vero questo avventarsi contro le pareti della nostra gabbia un'altra metafora simile è la mosca nella bottiglia è vero è perfettamente dice Wittgenstein assolutamente disperato l'etica in quanto sorga dal desiderio di dire qualcosa sul significato ultimo della vita sul bene assoluto sull'assoluto valore non può essere una scienza ciò che dice non aggiunge nulla in nessun senso alla nostra conoscenza ma ma è un documento di una tendenza dell'animo umano che io personalmente non posso non rispettare profondamente e che non vorrei davvero mai a costo della vita porre in ridicolo bene con questo si è chiusa la lettura conferenza l'etica di Wittgenstein ci sarebbero tante cose da dire ma abbiamo sforato di un quarto d'ora il nostro diciamo così no il nostro tempo a disposizione vi suggerisco solo tra le tante letture che si possono fare quella di andare via a leggere due paginette che non parlano di etica ma parlano del tema delle relazioni interne che riguarda proprio l'etica e si trova queste due paginette si trovano nel volume il cui titolo è Ludwig Wittgenstein e il circolo di Vienna colloqui annotati da Friedrich Weissman è vero lo potete trovare in edizione nuova edizione Mimesis io ho l'edizione della Nuova Italia degli anni 70 è vero ci sono due paginette questa è a pagina 42 sul problema delle relazioni interne del tempo che secondo me andate un po' a fare questa ricerca se volete si connettono a questo tema che Wittgenstein ha trattato parlando dei fatti e dell'etica bene io vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto anche ne approfitto anche perché è l'ultima volta che ci sentiamo per quanto mi riguarda ne approfitto per farvi per dire che vi ringrazio tutti per avere assistito a questo lungo ciclo di conferenze alla fine saranno 21 mi raccomando ce ne sarà un'altra cura della professoressa Raggetti l'ultima veramente sarà professoressa Raggetti la prossima settimana martedì prossimo quindi vi aspetto numerosi a questa conclusione è stato un ciclo che è durato un mese e mezzo è vero con ben 21 letture e di questo ringrazio di cuore tutti i miei colleghi perché sono stati loro i veri protagonisti di queste letture ed è a loro che aveva il merito di avere dato un'idea di come concludendo con una frase di Wittgenstein con un'espressione di Wittgenstein di come un segno o tanti segni possano avere molti infiniti significati questo vorrei che rimanesse forse il più grande insegnamento della filosofia bene vi ringrazio e vi auguro una buona serata e mi raccomando martedì prossimo con la professoressa Raggetti arrivederci grazie grazie a tutti